L'opposizione in Regione chiede un consiglio straordinario sull'agricoltura sostenendo che la Giunta è immobile quando invece servono azioni urgenti e dirette. Il maltempo ha provocato danni ingenti, in alcuni casi le produzioni hanno perdite che arrivano al 100% nel settore vitivinicolo ad esempio. L'Abruzzo a maggio e giugno è stata una delle regioni più colpite. In conferenza stampa i consiglieri del PD dei 5 Stelle di Legnini Presidente e Abruzzo in Comune sono stati chiari. Serve agire subito. Dopo il maltempo di maggio e giugno ci sono stati gravi danni, grave ripercussione su tutto il settore agricolo, in maniera particolare sul settore vitivinicolo dove si registra oltre il 60-70% di perdita delle produzioni 2023 con un danno economico di oltre 60 milioni di euro. Poi c'è tutto il comparto del Fucino con i prodotti orticoli, anche lì patate, carote abbiamo perso percentuali importanti che si aggirano intorno al 50% della produzione davvero un danno enorme per tutto il settore agricolo regionale. Abbiamo chiesto più volte insieme alle organizzazioni sindacali di intervenire alla giunta regionale. Nessuna risposta è arrivata ad oggi. Per questo abbiamo chiesto un consiglio regionale straordinario dove si parla solo dell'agricoltura, solo dei problemi, ma soprattutto delle possibili soluzioni. Pepe, Paolucci, Blasioli, Pietrucci, Taglieri, Pettinari, Smargiassi, Stella, Fedele di Benedetta e Mariani hanno già inoltrato richiesta di consiglio, ma hanno proposto anche delle soluzioni concordate con i sindacati e con il mondo agricolo. Già tempo fa avevano chiesto un tavolo permanente. Innanzitutto una moratoria sulle rate di mutuo. C'è la necessità e soprattutto l'esigenza da parte delle imprese, delle cooperative, delle piccole aziende agricole che hanno difficoltà finanziarie importanti e quindi una sospensione dei mutui da questo punto di vista, un accordo con l'ABI, l'attivazione dello stato di calamità per questa regione, la deroga per quanto riguarda il decreto 102 e quindi la copertura anche dei danni al di fuori dell'assicurazione competente da questo punto di vista e specifica da questo punto di vista. Poi una serie di altri interventi che abbiamo concordato insieme alle organizzazioni sindacali del territorio proprio per fare fronte a questa situazione davvero davvero drammatica.